Erano sulle sue tracce già da qualche giorno, da quando diversi genitori avevano segnalato la sua presenza all'esterno di alcune scuole della fascia costiera di Giuliano. Questa volta però è stato beccato in flagranza dagli agenti di polizia municipale che hanno tratto in arresto il presunto pedofilo. L'uomo, un 32enne di Marano, è stato scoperto dagli agenti, mentre poco distante dall'ottavo circolo didattico di via Madonna del Pantano, risaliva in auto ancora nudo dopo che pare avesse mostrato i genitali ai bambini fuori scuola. Nelle ultime settimane erano state diverse le segnalazioni di genitori e non solo che avevano avvistato l'uomo a bordo di una DAEV Matiz compiere sempre gli stessi gesti. Così sono partite le indagini del comando di polizia municipale diretto dalla comandante Maria Rosaria Petrillo che questa mattina, dopo una segnalazione, è prontamente intervenuto. Ancora una volta fondamentale l'apporto dei cittadini. Su segnalazione di genitori siamo intervenuti, al momento del nostro arrivo non si rinveniva questa famigerata auto rossa che più volte c'era stata segnalata nelle immediate vicinanze delle scuole. Dopo un'attenta opera di perlustrazione nell'area circostante abbiamo individuato l'auto nei pressi dell'ingresso secondario della scuola e abbiamo rinvenuto a bordo un uomo che era ancora nudo e che immediatamente prima come da foto che gli stessi genitori avevano scattato e che abbiamo acquisito a verbale avevano rinvenuto, abbiamo rinvenuto appunto il presunto pedofilo. Ci hanno segnalato che questo episodio era ripetutamente sempre nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici che si era ripetuto nel tempo già da una settimana. Notizie ulteriori le abbiamo acquisite attraverso un tam tam e un'attenta selezione delle notizie su Facebook. Abbiamo iniziato quindi una vera e propria opera in borghese volta a rinvenire quest'auto e solo oggi grazie all'immediata telefonata di un genitore siamo riusciti ad arrestarlo in flagranza e a bordo dell'auto è stata rinvenuta anche una bottiglia di vino e c'è il sospetto che questo uomo facesse uso di alcol. L'uomo adesso ai domiciliari sarà processato per direttissima. Il sindaco Antonio Poziello ha fatto sapere che l'amministrazione comunale si costituirà parte civile. Va sicuramente dato il plauso alla nostra Polizia Municipale per essere riuscita a individuare questo orco, non saprei come definirlo, questo personaggio triste che davanti ai bambini delle scuole medie, delle scuole elementari e materne si abbassa pantaloni mostrando parti intime. Mi auguro che ci sia una pena esemplare per lui, ci costituiremo parte civile per assicurarci che l'abbia e continueremo a tenere alto il monitoraggio davanti alle scuole. I nostri bambini possono stare tranquilli e anche tutti i genitori perché davanti alle scuole della città di Giuliano c'è un'attenzione costante, un controllo e un monitoraggio che non avrà fine e non ci fermeremo adesso.